Ciao a tutti bentornati nel mio canale. Oggi vi voglio parlare di quelle antiestetiche macchie di luce che ogni tanto capitano sul volto dei nostri soggetti. Vi sarà capitato certamente di fare delle foto magari con tutte le attenzioni portando il soggetto all'ombra poi magari non ci avete fatto caso e una luce è arrivata o da dietro o dall'alto è passata attraverso il fogliame e ha colpito sul volto uno dei soggetti o il soggetto che stavamo fotografando e ha rovinato l'immagine. Ora voi mi direte come si fa a togliere? In effetti se ingrandiamo questa immagine vedete che sarebbe molto complicato andare a togliere questa cosa semplicemente facendo dei col clone o col copia incolla. Quindi bisogna trovare una soluzione. La soluzione io l'ho trovata infatti vi faccio vedere che la correzione è stata fatta ed è stata fatta anche in maniera molto facile. Guardate l'immagine completamente pulita non c'è più nessuna macchia di luce che dà fastidio. Il prima e il dopo. E ora vi spiego come ho fatto. Bene partiamo dalla mia immagine di base. Che cosa ho usato io per correggere queste immagini? Lo vedete qui è scritto frequency separation cioè la separazione delle frequenze. Che cos'è la separazione delle frequenze? Allora le frequenze in un'immagine sono sempre due. Una è la texture. Allora vi faccio vedere qui adesso che l'ho ricaricata. Una è la texture che è questa. Vedete come è marcata e l'altra invece riguarda le tonalità di colore. Vedete sono tutte tonalità più chiare più scure che tutte insieme formano l'immagine. Se noi andiamo ad agire soltanto sulle tonalità di colore lasciando intatta la texture riusciamo ad eliminare completamente il difetto. Ora io parto da capo e vi faccio vedere come ho fatto. Allora io non ho creato la separazione delle frequenze dall'inizio. In realtà ho usato un pannello che ho qui. È un pannello che si trova qua in finestra. Estensioni. Vedete che ho retouch pro. Questo è retouch pro. Se non ce l'avete vi posso dire che questo pannello qua costa una decina di euro all'incirca. Almeno in questo periodo il prezzo penso che sia quello. Nella descrizione vi inserisco il link su come acquistarlo e come avere anche uno sconto quando lo acquistate. Quindi se usate il codice che inserisco in descrizione avete ancora uno sconto su prezzo del pannello. È un pannello sul quale io ho fatto parecchi tutorial. Questo è semplicemente un tutorial per usare questa separazione delle frequenze in questa situazione. Però ne ho fatti altri in cui la separazione delle frequenze serviva per mettere a posto bruffoli, bruffoletti e altri difetti sul virus delle persone. Se siete interessati andate a vederli. Vi metto comunque dei link in descrizione. Questo è il pannello nuovo, è la versione 2 e su questo pannello abbiamo già due separazioni delle frequenze. Adesso ve lo metto in italiano guardate perché c'è anche la versione in italiano. Abbiamo separazione di frequenza pure semplice e separazione di frequenze 16 bit. Che cosa vuol dire? Che se dovete creare voi questi due livelli che vedete qua, la bassa e l'alta frequenza che sono appunto tonalità e texture, dovete fare due procedimenti diversi a seconda se avete un'immagine a 8 bit come questa RGB 8 bit o un'immagine a 16 bit. Io in questo caso ho un 8 bit e quindi vado qui e faccio separazione frequenze. Cliccando qua sopra il software mi fa già, adesso vado a chiuderlo, mi fa già quello che avete visto prima. Praticamente mi crea una cartella che chiama Frequency Separation e all'interno ci mette la bassa e l'alta. Se ho dei dubbi facendo il mio lavoro, posso vedere di creare un doppione. Ad esempio questa bassa qui con Ctrl J ne faccio due coppie di modo che se per caso lavorando faccio dei pasticci rovino questo livello qua ho sempre l'altro originale. Adesso vado a togliere l'occhietto quello originale, tolgo l'occhietto anche all'alta frequenza e inizio a lavorare selezionando soltanto sulla bassa frequenza coppia. vado a ingrandire l'immagine e vado al 100%. Allora posso fare, usare molti modi per correggere. Io normalmente vi faccio vedere che uso il pennello. In questo caso vi faccio vedere che ci sono altri mezzi per fare queste correzioni, soprattutto qua sulla fronte dove la correzione è molto semplice e uso lo strumento Toppa. Lo troviamo qua di fianco. Allora vado qui, seleziono bene la mia macchia sulla fronte e poi controllando ad avere origine inserito vado a fare questa cosa qui. Sposto e vado coprendo tutta l'immagine. Guardate che cosa è successo. Ctrl D ed ecco che la macchia del sole quasi non si vede più. Abbiamo ancora alcune piccole correzioni che possiamo fare o lavorando ad esempio sullo strumento pennello correttivo al volo. Cioè vado a fare questo lavoro qui. Guardate è già è sparita quella macchiolina qua. E un altro lo faccio qui. Vedete che va sempre meglio. In più ho questo rosa qui che non va bene e in questo caso vado ad usare il pennello. Quindi vado a prendere, a campionare, tenendo un pennello di opacità molto bassa, quindi ho un'opacità al 33%, campiono una zona lì vicino e vado a fare dei click e delle pennellate nelle zone in cui mi sembra che ci siano ancora dei difetti. Qua vado a fare anche una cosa di questo tipo. Prendo un po' una parte e un po' dall'altra e cerco di sistemare tutta questa zona qua. Ecco vedete che sto lavorando in modo da avere l'immagine pulita. Vado ad attivare l'altra frequenza per vedere se il difetto si nota ancora. Direi di no, volendo ci posso ancora lavorare ma direi che è abbastanza a posto. Quindi spostiamoci invece sulla barba. Anche qui io sono andata a fare il lavoro semplicemente con lo strumento toppa, quindi non è sempre detto che per fare questo tipo di correzione bisogna diventare matti usando il pennello per delle ore. Guardate, vado verso sinistra, CTRL D, vado a vedere che cosa è successo. Vedete non è stata una cosa eccezionale, dobbiamo andare a togliere questa parte qui e facciamo così. Vediamo che cosa è successo. CTRL D, ecco qui è rimasto questo allone qua ed è rimasto un buco qua. Quindi in questo caso andiamo di nuovo a prendere il nostro pennello, campioniamo il colore che ci interessa che in questo caso è questo, riduciamo la dimensione del pennello. Il campionamento e la riduzione si fanno col tasto ALT, il campionamento si fa col tasto ALT, tasto sinistro, quindi campiono e poi la dimensione sempre ALT, tasto destro, vedete? E quindi vado, vedete, a creare una cosa omogenea. Adesso campiono la parte più scura e la riporto sulla parte chiara. Se mi sembra di aver fatto toppo faccio CTRL Z e torno indietro. qui ho ancora, direi che vado ancora a campionare qui e vado a mettere a posto quello. Poi andiamo a sistemare questa cosa qua, vedete? Vado a prendere, direi che può andar bene e anche qui direi che questa zona nera possiamo portarla anche un po' in qua. Adesso dobbiamo andare a vedere la texture che cosa ci dice. Ecco, direi che può andar bene, l'unica cosa è che questo colore magari è un po' troppo rossastro. In realtà ce l'abbiamo anche qui, quindi direi che può andar bene. Andiamo a lavorare sull'ultima parte, quella che direi che è la più complessa in questo caso e nella quale dobbiamo praticamente ricostruire il naso. Qui lavoreremo sempre con un pennello con l'opacità bassa, sono al 33% e andremo a coprire prendendo dai lati intorno questa zona qui. Quindi campiono qua e vado a muovermi qua in alto, vedete? Faccio dei click o delle piccole pennellate in modo da riempire queste zone chiare. Campiono qui e le porto qua dentro. Campiono qua che è molto scura, poi vediamo se va bene, campiono qui, perché dobbiamo proprio rifare questa parte del volto, fare in modo che questa zona sia più scura. Ecco, vediamo con la texture che cosa succede. Vedete qui sembra un rigonfiamento, quindi non va bene, dovremmo portare questa zona qua chiara verso quella parte lì, quindi andiamo a fare un passaggio più morbido tra qua e lì. Vedete? Qui andiamo a dare questa zona qui. Qui dobbiamo fare in modo che il naso abbia lo stesso colore, quindi che continui questo colore qui, che è il colore del naso. Ecco, vedete che dovremmo avere tolto più o meno tutto quello che potrebbe darci fastidio. Adesso andiamo a vedere la texture. Ecco, direi che va abbastanza bene. Abbiamo solo questo segno qui. Vediamo se viene dalla... Allora qui abbiamo ancora un po' l'effetto gonfiore, quindi dobbiamo ancora scurire un po' questa zona qua. Questo qui possiamo portarlo anche un po' più in qua, in modo da renderlo più uniforme. Ecco, direi che va bene. Questo effetto qui che ci dà fastidio è in realtà è sulla texture, quindi andiamo su alta frequenza, prendiamo il timbro clone, prendiamo un punto, non importa, l'importante è che sia un punto in cui c'è la pelle e facciamo dei click. Vedete? Siamo posizionati su alta frequenza. Prendiamo la pelle qui e facciamo dei click qua. Vedete che in questo modo... Andiamo a vedere solo se c'è ancora... Possiamo ancora lavorare un attimo qui. Direi che possiamo schiarire un po' questa parte qua. Renderla più morbida. Vediamo un po'. Ecco, direi che in questo modo va bene. Guardate. Control 0, visualizzazione piena. Guardate un bel prima e dopo. Vedete che è stato lavorato tutto. Ovviamente se avete più tempo lavorate ancora meglio di quanto ho lavorato io per rendere il tutorial veloce e abbiamo un'immagine che non ha più difetti. Se vogliamo togliere anche quello che c'è dietro ci basterà lavorare nella bassa frequenza e fare semplicemente una cosa di questo tipo. Con lo strumento per il pennello correttivo al volo. Guardate. Facciamo così. L'immagine scompare e facciamo anche così. L'immagine scompare. Oppure come abbiamo fatto prima con la nostra strumento della toppa circondiamo e ci spostiamo in modo da toglierlo. circondiamo e ci spostiamo in modo da toglierlo. Ecco. Vedete che in un attimo control d deselezioniamo abbiamo tolto tutte quelle macchie di luce che erano anti estetiche che non ci piacevano. Il mio tutorial finisce qui. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto appunto mettete un like. Se avete dei commenti fateli. Se avete delle richieste fatemele. Io poi se posso vi faccio il tutorial. Vi ringrazio. Alla prossima.